Ora vado a fare il residual service con il WAG. Ho già collegato il cavo, acceso il quadro strumenti e lanciato il WCDS. Quindi per fare l'azzeramento clicco su azzerare. Ora comincia a comunicare con il croscotto. Prende tutte le informazioni. E qui ci sono tutte le informazioni relative all'ultimo azzeramento fatto. Quindi questi per esempio sono i chilometri fatti dall'ultima ispezione 29.9. Quanti giorni sono passati, qual è la qualità dell'olio, quantità di fuliggine, carico termico e via andare. Percorrenza massima tra un'ispezione e l'altra in chilometri e in giorni. Tempo di ispezione 547 giorni. Bene, a questo punto io vado a fare il reset scegliendo dal menu a tendine in alto azzerare intervalli estesi olio. Quindi io clicco, cambio olio azzerare manutenzione, a intervalli clicco su azzerare. I nuovi valori sono stati salvati con successo. Seleziono quindi dal menu azzerare intervalli fissi ed estesi inspection. Faccio, procedo con azzeramento. Ora procedo a fare tutta la procedura di azzeramento. I nuovi valori sono stati salvati con successo. Ora vado a verificare nell'MMI se i nuovi valori sono stati salvati, quindi service e controllo. Intervalli service. Cambio olio 30.000. Prossima ispezione a 30.000. Infatti ora come si vede qui da tutte le informazioni, percorrenza da ispezione 0, tempo da ispezione 0, olio buona qualità, i valori sono stati tutti azzerati. Già che ci sono vado a fare la scansione della centralina del motore per vedere se ci sono degli errori. Quindi vado su selezionare centralina. Ora mi propone tutte le centraline della macchina. Mi comincia a comunicare e poi vado a vedere se ci sono degli errori. Quindi clicco su memoria guasti. Lui verifica e non c'è nessun guasto riconosciuto.